Allora, pre-partita, anzi pre-giornata, la prima giornata di coppe, si comincia oggi, siamo qui con il presidente di Project Land, amministratore delegato, scusami, giusto, Sergio Carbone e il capitano di DocFlow che oggi in realtà non gioca perché riposate, giusto, se non ricordo male, però sei arrivato per partecipare a questa bellissima iniziativa di Sherwood promossa da Project Land e portare i generi alimentari che erano stati richiesti. Quindi diciamo che stiamo qui a fare questa intervista che è un po' un ringraziamento dell'AD, se vuole dire qualcosa. Sì, sì, allora ci tenevo tantissimo a cominciare a ringraziare le società sportive che hanno aderito sin dall'inizio all'iniziativa e che hanno dato un grosso contributo, questo è il caso di DocFlow e quindi ci sembra giusto, doveroso coinvolgere in questo messaggio di ringraziamento i nostri amici e spero che la stessa cosa potremo fare con tante altre società che partecipano oggi alle partite in programma. Grazie ancora ragazzi. Allora, ringraziamento, grazie Gallinari. Niente, volevo sapere un attimo, quanta roba siamo già riusciti a raccogliere? Allora, su questo abbiamo il nostro amico Lunghi di Sherwood che sta facendo un po' i conti. Ci darà una situazione aggiornata a fine serata, però sono abbastanza attivista. Bene, grazie a tutti, grazie tantissimo per il bel gesto e buona partita a tutti, vabbè, voi giocate, voi per la prossima.